corsa 1 2 3 vai vediamo che troviamo signori ok ok signori il dio il dio del calcio eusebio eusebio altro picca altra corsa la chat decide quindi face va bene andiamo col naso vediamo chi troviamo ma dopo picarlos ti prego dimmi che ce l'hai scambiabile dimmi che ce l'hai scambiabile altro picca altra corsa picca icon scoppiettante si può dire 1 2 3 vediamo le statistiche vediamo quale vediamo le statistiche vediamo chi troviamo signori vediamo chi troviamo oddio il terzo un portiere al primo potrebbe essere il king potrebbe essere il secondo è roba di pirlo oppure begham secondo me il primo chi potrebbe essere pure rune è vero eccolo quei rune i signori il secondo andrea o begham o david a chavi no chavi no non è chavi più velocità e andrea e andrea e qui smichel eh chi prendere chi prendere rune è lenti con architetti uscito stradamente alle 18 per via dell'ario che è cambiato prime world cap o mid 88 o più vediamo il drop rate dai si parta stack dai raga ok ah va bene va bene daglish altra corsa signori abbassiamo tutto vediamo cosa esce guardiamo dalle statistiche 1 2 3 vai vediamo che troviamo signori tre picchettozzi golosissimi aaaah il terzo e pure il primo non è brutto eh anche il primo best coman raul beh best potrei starci però eh potrei starci molto caliente questo ve lo dico eh vamos sto scuotendo poco e sento roba pesante sento devo dire la verità io vado con naso vado con naso e vediamo che troviamo allora allora sento roba pesante ah beh 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 non vorrei non vorrei non vorrei che il secondo è figo non vorrei non vorrei che il secondo è figo non vorrei un bel ricosta un bel ricosta buono per come condimento dell'insalata di stasera e il secondo eccolo figo ah ma mamma mia che scuota oh mamma mia che scuota mamma sia mamma mia Sir Katie Douglas Mamma mia Che bella questa qui Questa è una dinamica bellissima Eh forse butterà in World Cup per a mille Uno, due, tre, vai Vediamo che troviamo Ah, vabbè Odro Pasta, ci manco male Peccato che non ha cinque debole come World Cup Questo, però è fortissimo, a me è piantissimo Altro pick Colosissimo, uno, due, tre, vai Vediamo che troviamo Guarderemo le stats Chi è? No, il primo è brutto Oh, bello l'ultimo Bello Signori, Eusebio Vamos Eusebio Che bello Mamma mia Altro pick, altra corsa Uno, due, tre, lo stiamo scontando per bene Yei, dacci qualcosa di buono Please, please Come on yei, come on yei Bello Samuel E tu Il bomber d'Africa Bellissimo E vamos Erpiketons Erpiketons Bello, yei I asci nel mid Caspi Tu vuole il nascondino, vuole Vediamo Ma dove ho il naso? No, capita L'abbiamo dato prima a matte Non è male Ci metti ombra ancora Ancora meglio Non è malissimo Il primo è World Cup Non è World Cup il primo E... Dai, Van Basten L'ultimo è Puglielo Bobby Moore Tipo No, è Van Basten Veramente Questo è bruttino ragazzi Van Basten E... Attenzione Il picchetto Icon è pronto Il kingone pure Vai col naso e via Ah, è buon capita Carros Alberto È la roccia Devo dire Con ombra Uno del piromid Mamma mia Vabbè, capita Lo prende Uno Due Tre Quattro Cinque E via Vamos Attenzione Erpiketons No, peccato Il mitico Baggio 91 re 92 91 e va persi Per prendere i baggi Il picca Icon Mid World Cup Prime Uno, due, tre Vai Vediamo che troviamo Signori Vediamo che troviamo E... Non è malissimo Certo, tra caccasino Io prenderei Candavaro Bellissimo Forse caccasino E skilli non è male Signori È partita l'altra Icon Vediamo un po' che troviamo Abbassimo tutto Dopo best In questo account Troveremo altro Attenzione Il primo World Cup E anche l'ultimo Ma 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 Samueel E 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 Mamma mia Mamma mia Che bomba Che bomba C'è pure Buscas Ma c'era già Non scambiabile Vabbè Ma è tutto Tutta la Altro piccaico Uno Due Tre Vediamo che troviamo Dai Vediamo che ci offre la E Va bene Va bene Se si fa boi di Delpino Io prenderei Delpino E' uscito onesto Delpino e Ferdinand Ferdinand Poteva uscire il Prime Il Prime è forte forte Raga Delpino forse Da ciocchino Il Poteva uscire il Prime